Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 223 di Paganico, traffico fermo per incidente a due chilometri dallo svincolo di San Salvatore a Pilli, in direzione della Siena-Bettolle. In A1 coda in uscita a Firenze Sud per traffico intenso. Sulla FIPILI coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, personale su strada per lavori in direzione Firenze tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno e tra Livorno-Porto e Livorno-Aurelia e operai a lavoro anche allo svincolo di Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Sulla statale Trebis-Tiberina lavori nel tratto compreso tra Resina e San Sepolcro Sud in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!